No alla privatizzazione degli aeroporti siciliani. Questo è l'appello lanciato ancora una volta ieri a Siracusa dal Comitato Vussia, i viaggiatori del Sud Sicilia. Secondo il Comitato, gli aeroporti di Catania e Comiso sono gestiti in modo poco trasparente, così come poco trasparenti sono anche i conti della Camera di Commercio del Sud-Est. Il Vussia sottolinea infatti che la condizione di dissesto camerale è stata dichiarata dalla stessa Camera di Commercio e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico che per tale motivo ha decretato l'autorizzazione a elevare i diritti camerali catanesi del 50%. Qualche mese fa, dichiarato Claudio Melchiorre, Presidente del Comitato Vussia, sapevamo che la Camera di Commercio voleva vendere le proprie quote. Se è in dissesto, la Camera va commissariata e cambiata la gestione. Se non lo è continua, va revocato il decreto di autorizzazione al prelievo aggiuntivo, motivato dal dissesto. Dunque, il fine della privatizzazione dei due aeroporti non è altro, secondo il Vussia, quello di mascherare una gestione inefficiente e poca rispettosa della cosa pubblica. Inoltre, se l'operazione di privatizzazione dei due aeroporti del sud-est venisse portata a termine, si metterebbe a rischio il futuro della Sicilia e dei suoi cittadini, nonché la perdita di tasse d'imbarco per diversi milioni di euro. Proprio in questi giorni, i due aeroporti in questione hanno dato prova della possibilità di cooperare e garantire agli utenti un servizio efficace. In particolare, il Piola Torre ha superato le aspettative previste, operando a pieno regime e sostenendo un traffico enorme, senza alcun disagio. La totale sinergia con lo scalo ebleo, ha dichiarato Nino Torrisi, amministratore delegato della SAC, testimonia l'efficienza del sistema integrato tra i due aeroporti. Ieri, con un giorno in anticipo, si sono conclusi i lavori di rullaggio di alcune piste dello scalo di Fontana Rossa, ormai completamente operativo. Il Piola Torre, dopo giorni di traffico, ha gestito invece solo sei voli in arrivo ed in partenza, con circa mille passeggeri. Numeri nella norma per un piccolo scalo come quello di Comiso, che ha visto in questi giorni ben 45.546 viaggiatori. Numeri che confermerebbero le potenzialità dell'aeroporto comisano, che potrebbe raggiungere persino 1.800.000 passeggeri annui.